come chi dice che l'amore è cieco ma ogni sfregio è un trasloco ogni incontro l'emicrania severa e tu che sei il tempo del digiuno cerchi con me una tregua un buco alla cintura i tuoi vestiti che cambiano misura vite parallele incontra alessandro assiri come e altre storie vamos marco benvenuti all'ascolto di radiogiano public history welcome to radiogiano public history bienvenue all'ecute di radiogiano public history will come loite by radiogiano fin spas bene amici ascoltatori benvenuti ad un nuovo episodio di vite parallele ospite alessandro assiri poeta scrittore editor alessandro assiri è nato a bologna e divide la sua vita tra trento e parigi buonasera alessandro assiri buonasera a voi e benvenuto a vite parallele allora alessandro scopriremo tutto di te e della tua attività letteraria tra qualche minuto ricordo intanto ai nostri amici ascoltatori che la premessa a questa puntata da meletta estratta dal tuo ultimo libro come edito da lieto colle è impreziosito dalle bellissime immagini di mauro barbieri quindi io direi di fare la prima pausa come di consueto poi cominciamo la nostra conversazione con alessandro assiri vamos marco con truth the prism ava sei all'ascolto di radiogiano public history bene rieccoci a vite parallele alessandro assiri catia simone vite parallele radiogiano public history allora caro alessandro volevo chiederti come faccio sempre con i miei ospiti all'inizio della puntata quando hai sentito prepotente il bisogno di scrivere e soprattutto di scrivere poesia cioè quando è cominciato tutto questo guarda ti posso assicurare che non comincia mai nel periodo scolastico cioè non comincia mai dalla stria de saba montale quasimodo anche perché anche perché anche perché adesso no questa è una battuta facile anche perché sai essendo una generazione 62 che è vissuta la sua rivoluzione mancata e capito direi che sia iniziato tutto da lì il bisogno di comunicare non tanto il bisogno di fare poesia di quello ce ne siamo accorti dopo la prima cosa era il bisogno di comunicare io credo di aver imparato più non so ai seminari di celati che che non che non sui libri del secondo novecento quelli sono arrivati dopo quella è una passione che mi è arrivata dopo però la più grande esigenza era il bisogno delle cose da dire la nostra è una generazione che aveva delle cose da dire che è arrivata a un passo da dei grandi cambiamenti e li ha mancati quasi tutti se non tutti quindi io non sapevo disegnare disegnavo da schifo e disegno da schifo anche adesso però insomma quattro parole in croce le sapevo fare quindi da lì è nata la passione per la poesia e il talento cioè quando è la quando hai scritto la prima poesia a chi si ricorda più ma chi si ricorda c'è una cosa no non te lo so dire io credevo che la prima poesia scritta non si scordava mai come il primo erano altre cose che non si scordavano mai e poi alcune le dimentichi anche quelle guarda anche le rimuovi le rimuovi va bene torniamo a noi alessandro allora alessandro io ho avuto la fortuna di conoscerci personalmente la prima volta ecco la prima volta a bardolino tanti anni fa dove hai istrionicamente interpretato un poema dedicato a bologna in un libro in tempi ormai vicini che ho ancora nella mia biblioteca accanto ad altri tuoi libri ma di questo ne parleremo dopo poi ci siamo ritrovati a verona in una presentazione con lo sciancato e caterina poi ci siamo ritrovati a roberito con lettere a di puntato fino ad arrivare oggi a come allora parafrasando ironicamente alcuni vecchi detti alessandro quante parole sono passate attraverso questi ponti e soprattutto se sei fermo sulla riva fermo sulla riva opposta hai visto passare moribondi che comunque l'hanno fatta sempre franca a discapito di vivi talentuosi guarda la poesia ha fatto un sacco di caduti ne ha fatti un sacco ma li ha fatti li ha fatti credo casi perché è cambiato anche il modo di dire vedi c'è stato un periodo all'inizio del 2000 dove abbiamo creduto che tutto fosse poetabile no che qualunque minchiata avevamo nella testa hai capito fosse poetabile ma non è questo il fare poesia e non si tratta forse sai credere che tutto sia da poter tradurre in versi non è fare poesia se fare poesia non è andare a capo per capirci insomma certo poesia è qualcos'altro è qualcosa che conosci molto bene anche tu per carità di dio ma fare poesia soprattutto non è dire prendo quattro parole vado a capo e buongiorno buonasera capito cioè non quindi ne ho visti tanti passare passare malamente e vedo invece vedo anche delle cose buone non sono così negativo come ero prima prima ero più critico ero più acido adesso vedo anche delle cose buone qualcosa di buono c'è per fortuna ci mancherebbe quindi è stato anche seminato bene insomma è stato è stato seminato e qualcosa di buono è cresciuto diciamo così certo certo alessandro il tuo discorso poetico e adesso entriamo nel un po' nel vivo del tuo libro appunto in questo ultimo libro come parte con una bellissima premessa poetica di abelardo linares però io vorrei anche ricordare al nostro pubblico la bellissima prefazione che ho letto tutta con attenzione di augusto pivanti che appunto non è un addio ma una rivederci a lieto colle che prosegue il suo lavoro poetico in ronzani ecco tra l'altro della ronzani abbiamo avuto un ho presentato un loro autore e andrea pagani con il suo bellissimo libro su joy su un incontro tra joyce e proust quindi il qualche vite parallele fa ricordiamo anche che lieto colli ha pubblicato poetesse del calibro di alda merini e maria luisa spaziani io ricordo alessandro gli ultimi due versi di questa bellissima poesia come parlare di me stesso come far sì che tutto quanto in me trema ora tremi in te che mi leggi e sia infine poesia allora te chiedo alessandro tu come fai a trasformare tutto in poesia e che cos'è per te la poesia allora ti posso dire che cos'è per me la poesia in questo momento la poesia in questo momento per me è occuparsi del rimosso vedi abbiamo creduto io ho creduto ma ma credo di non essere stato da solo in tanti abbiamo creduto che la poesia fosse questo eterno dialogo con la morte no in realtà non è così la poesia è un dialogo con l'assenza è un dialogo con la scomparsa con quello che abbiamo rimosso con quello che non siamo stati più capaci di trovare forse perché siamo diventati un anche un pelino più grandi capito quindi eh ci siamo disillusi di certe cose quindi la mia poesia oggi si occupa prevalentemente del rimosso sono diventato diciamo meno civile ecco diciamo così quello è vero però il la disillusione è anche accompagnata paradossalmente e lo vedo anch'io con l'età perché insomma tu sei del 62 io del 67 mi accorgo che andando avanti con gli anni si si disillude però si diventa anche molto più emotivi senza dubbio senza dubbio sono d'accordissimo sono d'accordissimo infatti credo che ci sia eh nei miei ultimi lavori che ci sia un'emotività più spiccata e probabilmente anche una consapevolezza che prima di negarlo l'io bisogna riconoscerlo quindi sai questa eterna menata dell'autoreferenzialità in poesia sarebbe meglio accantonarla un attimo perché veramente l'io sarebbe sarebbe giusto conoscerlo guardarlo bene dentro e poi discutersene guardandosi anche un pochino allo specchio sono assolutamente d'accordo però purtroppo oggi è anche vero che la vanità l'egocentrismo la fanno da padrona ma questo è tutto questo lo questo lo vediamo dappertutto in una civiltà che comunica con i like che cosa possiamo pretendere null'altro che questo insomma sì null'altro che questo tu dici che i social eh hanno hanno affermato o hanno contribuito siamo stati sempre questi in fondo nonostante anche senza i social siamo siamo sempre stati questi è vero però il social non ha fatto dei danni nel senso di di aumentare il volume di scrittura della parola il social ha fatto danni nell'aumentare il giudizio critico dell'incompetenza hai ragione questo è stato il danno del social che non è il fatto che si scriva tutti è il fatto che tutti facciano i critici quindi l'anarchia l'anarchia della critica insomma sì l'anarchia della critica che diventa come l'antologia degli esclusi capito c'è è la stessa cosa cioè adesso di un'antologia tu guardi chi non c'è non chi c'è questo è vero questo è curioso è vero è vero è vero è vero è vero chi sono Alessandro i tuoi poeti di riferimento magari chi lo erano e e chi e chi lo sono adesso allora sicuramente io arrivo dalla storia del secondo novecento quindi per me tutta la tutta la scuola di Raboni hai capito del quale sto anche cercando di scrivere un saggio da cinque anni e sicuramente non ci riuscirò Raboni sereni sono sono i miei riferimenti sono questi i miei riferimenti attuali c'è tanta gente che mi piace Silvio Ebrea ad esempio per me è una delle migliori voci che abbiamo in Italia bene bene facciamo i nomi facciamo i nomi perché tante volte non si conoscono purtroppo coperti da questa coltre anche di soliti noti insomma che vanno sempre avanti e quindi è bene bene fare i nomi ehm Alessandro di questo come di questo bel libro eh scorrono anche delle belle immagini ehm una ecco una eh è una fotografia anche dei tuoi genitori ehm se mi confermi dove ci sono quei versi ehm il verso numero la poesia numero quindici scritta caratterino eh romani eh sono i tuoi genitori questi due ehm non sono i miei genitori ma l'idea era quella non sono i miei genitori ma l'idea era quella era che fossero i genitori di chiunque ah ecco quindi insomma è è un omaggio ai genitori di tutti eh di chiunque dunque allora io voglio chiederti cosa hanno di diverso dagli altri tuoi libri questi versi però Alessandro pensaci me lo dici tra qualche minuto quindi io andrei con la seconda pausa my door is always open più indigo vamos Marco Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Salve Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e 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 del suo genitori di chiunque Bene, bentornati a Vite Parallele, riprendiamo la nostra conversazione con Alessandro Assiri come lieto colle. Allora Alessandro, cosa hanno di diverso dagli altri tuoi versi questi versi? Hanno probabilmente quella specie di intimismo che ti dicevo prima, che è il percorso dove sto andando adesso, anche il mio prossimo lavoro sarà su quest'onda qui, quindi sì, hanno quell'intimismo che prima non riuscivo a trovare, prima ero più rabbioso, adesso ho cominciato a guardarmi un po' più dentro, hanno solo questa e questa è la grande differenza. Quindi più morbidezza, meno spigoli. Meno spigoli, più morbidezza e direi anche un filo di malinconica dolcezza. È vero, è vero, questo è vero, si vince leggendo il libro, però non è una malinconia patetica, è una malinconia vera, vera però dolce nello stesso tempo. E saperla raccontare, la malinconia credo che sia una cosa bellissima, guarda, ce lo dico adesso e poi la chiudiamo qui, mia mamma se n'è andata dieci giorni fa, quindi io ho scritto per lei penso i sette anni che lei è rimasta immobile, però non ci farò sopra nessun libro perché non mi piace fare dei libri sul dolore, io di lei ho già scritto la cosa è conclusa, non ci farò sopra nessuna raccolta, non ci farò sopra assolutamente niente, non c'è più niente da dire, la cosa è conclusa. Ma io penso che il dolore tu lo racconterai sotto altre forme, quindi lo farei diventare universale e quindi è il dolore della scomparsa di tutti, delle mamme di tutti. Il carattere universale della mia scrittura mi è stato attribuito diverse volte ed è una cosa che mi fa anche, da un lato ovviamente piacere e da un lato mi spaventa chiaramente, però probabilmente è così, è una cosa, è un'emozione che deve essere condivisa di tutti, non mia, di tutti. Assolutamente, ti emoziona, ti spaventa perché senti la responsabilità di quello che scrivi, quindi ecco e questo è il vero poeta, questo è il vero scrittore secondo me, è quello che sente la responsabilità morale e non solo di quello che scrive. Io se scrivo per mia madre lo piango, ed è normale, ed è normale. Lo so, lo so, lo so. Però Alessandro, torniamo agli spigoli, torniamo un po' all'Alessandro anche che ho conosciuto io, perché riprendo in termini… Ma non è che è sparito, non sono sparito in quei termini, il dibattito politico si ti appassiona. Ti appassiona, ti appassiona, appunto in tempi ormai vicini, noi abbiamo avuto, ho avuto l'onore qualche episodio fa di Vite Parallele di ospitare Paolo Morando, che come tu sai insomma è un bravissimo scrittore e giornalista, abbiamo dedicato appunto la puntata a Bologna, alla strage di Bologna e a tutto quello insomma che ne hai conseguito e che ne consegue ancora con i processi in corso. Tu hai questa strage appunto che ha i suoi colpevoli, le sue tante vittime, io sono stata qualche settimana fa a Bologna e ho potuto sostare davanti a quella ferita di cemento che fa veramente ancora paura. Ecco, io leggo Alessandro, dal tuo appunto in tempi ormai vicini, questi versi, innanzitutto il titolo è bellissimo, chi è stato è stato, quindi questo meraviglioso gioco di parole è anche molto ironico, però di un'ironia feroce, perché tu sei anche una persona molto ironica Alessandro, vado a leggere, sei Francesca o sei Rita, chi la valigia l'ha messa o chi ci ha lasciato la vita, un altro agosto di strade cambiate, carbone diamante i vestiti del mostro, perché Bologna è una nevralgia, dopo gli ultimi indiani il resto è prateria. Esatto, ecco, che città è oggi Bologna secondo te e qual è la prateria che tu indichi in questi versi? Allora, la prateria era quella degli indiani metropolitani, ovviamente c'è lo spazio del 77, della creatività e della nostra creatività che riuscivamo a esprimere. Oggi Bologna è una città completamente cambiata, è una città che riesce ancora a far vivere delle contraddizioni, perché è ancora una città dove riesce a far vivere, credo una delle poche, il barbone che dorme a fianco a quello che beve un Franciacorta, quindi questa è una cosa alla quale Bologna attribuisca ancora, ma non ha più nulla a che fare con la Bologna, anche a livello di movimenti, movimentista che abbiamo frequentato noi e che abbiamo contribuito probabilmente a costruire in questo modo, adesso Bologna è tutta altra cosa, non mi si riconosco più, non è vero, che non mi si riconosco più non è vero, perché Bologna meno male ho ancora casa, vado ancora spesso, per carità di Dio, però sicuramente non ha più nulla a che fare con quella Bologna lì. Vabbè se è anche evoluta, io guarda sono stata qualche settimana fa, devo dire che l'ho riscoperta Bologna, perché secondo me è una città bellissima, ho trovato una città viva, una città bellissima, una città al passo con i tempi, che però non ha perso quella allure che aveva negli anni settanta, io la vedo così, non è più quella città, però ha sempre quel fascino di una volta. Probabilmente sì, però io che la vedo da dentro, ne vedo anche delle magagne che non mi va bene. Tu Alessandro hai vissuto quell'epoca pazzesca, quel periodo incredibile dell'arte, della poesia, della politica, quindi della… io immagino che sono tempi irripetibili quelli, sotto certi aspetti è anche meglio che non si ripetono, no? Sì, sì, senza dubbio sono d'accordo, sai, noi abbiamo avuto una fortuna incredibile, che è quella di avere vissuto anni dove si sono fatte cose veramente… o si hanno avuto opportunità straordinarie e d'altra parte sono state controbilanciate anche da cose che è giusto, come dici tu, che se non si ripetono è meglio, io trovo che poi Bologna… poi non so se i bolognesi siete così, tu magari ti vedi così, sono anche molto estremisti, cioè tutto rosso e tutto nero… è vero… Diciamo che in parte è vero, sì, sì, diciamo che in parte è vero… Non vedo mai una via di mezzo a Bologna… Io, sai, io frequento una parte, non frequento l'altra, quindi ti dimostra che è vero ancora… Vedi, vedi che ci ha cercato, la città è meravigliosa, veramente, è proprio bella Bologna… È cresciuta anche turisticamente, perché sono state fatte delle belle cose, turisticamente è cresciuta molto, cioè è cresciuta come sviluppo museale, come ospite di manifestazioni importanti, cioè in questo senso sicuramente Bologna è cresciuta molto… Bella, bella, viva, bella, sì, sì, sì… Alessandra, allora io parto anche da un altro tuo verso, che è contenuto in lettere A di puntato, che poi mi dirai chi è questo Benedetto di puntato… Diciamo che non è la presunzione di Anno Domini, insomma… Ah, ecco, infatti, è una persona, ecco, giusto? Sì, D è una persona, è una persona, attenzione, è un destinatario, dove la preparazione lo spiega bene, D è un destinatario, però che ci sia la persona dietro, sì, certo, la persona dietro c'è, sì. Certo, certo, allora il tuo verso dice che, insomma, contiene anche, secondo me, una bella domanda, confondi spesso il nemico con un avversario ogni presente, mescoli ogni discussione del contrasto precedente, scegliendole con cura, fai a pezzi le parole, tenti in vano di trasformarle in perle. Io siccome ti osservo e ti leggo su Facebook e tu hai sempre questo modo un po' ermetico di parlare in versi o in prosa poetica, con il quale descrivi sia le tue emozioni, però parli anche del presente, parli anche di fatti di cronaca, cioè ti esprimi in questa maniera. Volevo chiederti, secondo te la poesia, la prosa poetica riesce comunque a trasformare in perle anche l'orrore. E che cosa pensi del linguaggio di oggi, sui social, sui media, sui giornali? Il linguaggio di oggi, la comunicazione alla quale assistiamo oggi è un impoverimento assoluto su qualunque mezzo tu me lo voglia mettere, sui social, sui giornali, sui media, assistiamo a un impoverimento di linguaggio che è veramente spaventoso. La prosa poetica, sai, la prosa poetica aiuta a mistificare quello che dicevi tu prima, l'emozione personale col presente. Se tu usi la prosa poetica e metti la tua emotività e la cali nel presente che vivi, ecco, credo che questo sia un modo di scrivere che mi appartiene. Credo che sia la mia scrittura, insomma. È quella nella quale mi identifico, insomma. Certo. Quindi tu ne conviene che siamo anche circondati, come se fossimo circondati dalle parole, come se ci fossero mille mitra puntati addosso anche, con tutto questo parlare, questo esubero di linguaggio, questo… Certamente. Vero? Ma certamente, ma è sempre vita quest'anno, ma se non hai niente da dire, casi, ma non si mancherebbe. Invece parliamo… c'è un esubero di linguaggio, sì, sì, è verissimo. Bisogna assolutamente togliere, è vero? È necessario un po' sfoltire. Devi sfoltire, devi sfoltire, anche perché sennò fai troppa fatica ad andare a cercare, capisci? Certo. E tu non sfoltisci il buono, dove lo trovi? Cioè, se passi del gran lavoro con la falsa, capito? Cioè, sei lì che stai in giardino, ma qualcosa di buono non la trovi, capito? Hai solo abbassato l'erba. Certo, certo, certo. Alessandro, il tuo libro come? Ha un'assonanza secondo me, con Il capita di Gina Lagorio, che non so se tu l'hai mai letto, un altro libro meraviglioso, che Gina Lagorio ha scritto sul finire, insomma, della sua vita. E quindi come nel tuo… Sì, guarda, leggilo, te lo consiglio. E questo intercalare come? Lei lo fa con capita, quindi capita e riassume un po' le battute finali di una vita vissuta intensamente sotto ogni punto di vista. Tu scrivi in come… come che è tutto cassa e finestra, perché fuori non si riesce a spalancare. Addentro un sogno che si guasta, un sabato, che finisce senza cena, sbirciando senza rabbia il mare che avrebbe voluto coprire con la sabbia. Qual è questo sogno che ti si è guastato e qual è questo mare che avresti voluto coprire con la sabbia? Sono la stessa cosa. È quello che il mio amico Roversi dice, Alessandra è il cantore delle rivoluzioni mancate. Sono entrando da queste tre cose. Sono le rivoluzioni mancate. E' essere arrivati a un velo e non esserci riuscito. In che cosa non si è riuscito, Alessandra? Qual è almeno una delle rivoluzioni che avresti voluto vedere compiersi? Come l'avrei voluta? Sì. Avrei voluto un mondo che parte dalle stesse possibilità. Avrei voluto che il mio sogno da extraparlamentare comunista prendesse almeno qualche piega di quella direzione lì e invece non ne ha prese. E invece non ne ha prese. E questo torniamo al discorso politico. Ti ha deluso molto la politica. Quindi anche tu oggi non vedi spirali, non sei ottimista da questo punto di vista. Non vedo rappresentato. Non mi sento rappresentato da nessuno. Certo. Non mi sento rappresentato da nessuno. E questo è anche un mio fallimento politico che ho fatto anche politicativo. Quindi è un fallimento di tutti questo. Certo che è un fallimento di tutti. Però è anche vero, Alessandro, che comunque noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato in ogni senso e in ogni maniera, anche chi magari è distante politicamente da te. Quindi alla fine noi comunque come cittadini ci abbiamo provato, ci hanno dato una possibilità, una, due, tre, eppure hanno puntualmente smentito le aspettative. Ma chiaro. E su questo giudizio lo emetterà la storia. Staremmo a vedere come la storia giudicherà questi ultimi due anni. Però il problema, Alessandro, è che questa storia chi cavolo la scriverà? Chi la scrive? Chi la scrive? Sì, chi la scrive? Ma sai, bisogna continuare a provarla. Bisogna continuare a provarla a scriverla. In fondo è un tentativo. Ma tu hai proprio abbandonato la poesia civile o ti cimenterai ancora? Guarda, sai che oltre che poesia civile a me piace molto la civiltà della poesia, no? Quindi la preferisco la poesia civile. Penso che sia una cosa che non vada mai via, solo che vedi, la poesia civile nasce da un'urgenza, nasce da quasi una necessità, nasce da qualcosa di per me di rabbioso da dire e che mi esce in versi. Il tipo di poesia che parlavamo prima, no, non nasce da queste cose, nasce da ispirazioni, dai pensieri molto più meditati, molto più ponderati della rabbia che è la poesia civile che fa uscire. Certo. Però non credo di smettere, però, no, non credo di smettere. C'è ancora dentro di sé, dai, il rivoluzionario, dai. I tirapietri, io rimano sempre un tirapietri, secondo me, sì. Ma sì, ma sì, penso di sì. Bravo, adesso le pietre le tiriamo le parole, però, dai. Sì, forse, qualcuna mi viene, qualcuna mi viene, qualcuna mi viene, sì. Bene, bene. Ascolta, Alessandro, cosa ne pensi dei concorsi letterari e dell'editoria oggi? Concorsi letterari non ne faccio uno. Però nel passato mi pare che tu abbia partecipato a dei concorsi, no? No, a parte quello di Anterem, non ho mai partecipato a dei concorsi. Non li faccio, non mi ci trovo, non mi interessano, se ne è 150.000, ogni giorno uno ha un primo letterario nuovo da proporre, capito? Bravo. Non è la mia logica, capito? E che cosa penso dell'editoria? L'editoria penso che potrebbe avere delle armi che se ne è, diciamo, spuntata un po' la lama, ecco. Ma io non credo che l'editoria sia finita. Io credo che parli di editoria poetica o parli di editoria in generale. Ma in generale è anche poetica, quindi tutte e due. Allora, io credo che nell'editoria poetica ci siano delle case editrici che lavorano bene, che sappiano ancora lavorare con passione e che non lavorino da prostituzione. Credo che qualcuna esista ancora. Certo. E dell'editoria, dell'altra editoria, che cosa vogliamo dire? L'abbiamo vista le candidature dello Strega, l'abbiamo vista le candidature, cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Non c'è da dire niente, soprattutto dei libri non letti e votati. Cosa c'è da dire? Lasciamo perdere, che è meglio. Guarda, ascolta, tu collabori anche con un'editore francese molto importante. Sì, con Gallimard. Ecco, infatti, diciamolo, che è una casa editrice storica la Gallimard. Che differenza c'è, o se c'è una differenza, tra l'editoria francese e quella italiana, sia rispetto alla narrativa, alla saggistica, che alla poesia? Guarda, Gallimard penso che sia il terzo editore europeo. E se lo volessimo paragonare a Mondadori, faccio per dirti il nome a caso, sarebbe come i giorni alla notte. Insomma, c'è una serietà diversa. C'è una serietà diversa. C'è un modo di lavorare che è diverso dall'editoria italiana. C'è un modo di selezione delle cose dove c'è un'attenzione maggiore. Questa è la differenza, è l'attenzione che si dedica alle cose, non solo ai nomi. Chiaro che è un grandissimo editore, pubblica, fa scelte e da un lato detta queste scelte di mercato, alle quali qualunque tipo di editoria si adatta. Questo è un fatto. Però dipende anche da certe scelte che ci sono sorti. L'editoria italiana, questo lo fa un po' meno. Quindi il risultato è che il lettore arriva a Gallimard e non viceversa. Direi che sì, ma direi che anche la struttura, sai, in francese proprio che ragiona in un modo diverso da come ragioniamo noi. Il frequentatore di librerie in Francia è diverso dal frequentatore di librerie da noi. Vero. È un lettore diverso. Un lettore più attento che forse va alla ricerca. È un lettore che ha più attenzione. Questo sicuramente sì. Ecco, mentre noi siamo abbagliati dai titoli dei giornali e da classifiche che lasciano il tempo che trovano alla fine. Noi siamo influenzati dalle classifiche, siamo influenzati dalla non informazione di ciò che non è in classifica. Infatti, sono d'accordo. Io farei, Alessandro, la terza e ultima pausa con Jetlag Fesio. Ci troviamo tra pochissimo. Ci troviamo tra pochissimo. Ci troviamo tra pochissimo. Ci troviamo tra pochissimo. Bene, bentornati a Vite Parallele, ci avviamo verso l'ultima parte di questa bellissima e intensa conversazione con Alessandro Assiri e il suo come, edito da Lieto Colle. Allora Alessandro, c'è un altro verso tratto dal tuo libro in tempi ormai vicini, che io adoro, che dice Damiani chi è insabe, ovvero come i clandestini di ieri sono diventati i precari di domani. Parliamo anche di scrittori e di poeti, quindi i poeti clandestini di una volta sono diventati i poeti e gli scrittori precari di oggi, oltre al resto del mondo. Sì, se ti ricordi c'era una canzone di Venditi che finiva con o sei entrato in banca pure tu, mi sono sempre chiesto che cosa voleva dire questo in banca, se voleva dire con la pistola o in camicia bianca, diciamo che ricalca un po' lo stesso senso questo verso qui. Ho capito, scusa Alessandro, tu lavori solo con la scrittura e la poesia o parallelamente hai un'altra attività o hai avuto altre attività? Io sono stato rappresentante di cazzature per anni. E questa è una rivelazione, è un colpo di scena, cari amici ascoltatori. Era il lavoro di mio padre ed era l'unico lavoro che mi dava da lavorare sei mesi e poterne campare 12, quindi questo è perché ho fatto certe scelte, capito? L'ho fatto 40 anni, cioè il resto adesso mi occupo solo discursivamente di scrittura, ma anche prima poi in definitiva facevo così. Il mio rapporto col lavoro è sempre stato legato al discorso faccio un lavoro che mi fa guadagnare, mi dà da vivere e mi fa fare quello che mi interessa fare. Questo è sempre stato il mio racconto col lavoro. Lo stesso discorso vale per me Alessandro, cambia il settore merceologico ma siamo entrambi rappresentanti, quindi viva la partita IMA, ecco. Sì, sicuramente. Ecco, puoi fare quello che vogliamo. Un'ultima cosa Alessandro, questo libro, come ho già detto, è corredato di immagini bellissime. Volevo chiederti dove sono state scattate queste fotografie e come è nata questa intesa con Mauro Barbieri, che appunto ricordo come scritto nel libro, è fotografo, amante della street photography e mi piace molto questa definizione, che lui predilige il bianco e il nero perché è sempre ai margini della malinconia. Infatti su questa frase ci siamo trovati d'accordissimo. Immaginiamo. Poi, guarda, sono state assemblate tutte insieme ad Augusto che ci ha messo in contatto e ha dato un carattere, uno spessore abbinando la fotografia alla parola. Io mandai il testo a Pivanti, Pivanti mi disse c'è questo fotografo, ti va bene, secondo me Mauro Falk al caso nostro per il libro, anche perché era un libro al quale Ronzani teneva abbastanza, perché era l'apertura di una nuova collana. Quindi fa un po' da pripista perché è il primo della collana nuova di quando c'è stato il passaggio Ronzani-Lido Colle. Le foto penso che siano state fatte tutte a Serrara, che è dove Mauro, che è dove risiede Mauro. Che belle, sono veramente una più bella dell'altra. Non sei solito comunque a unire immagini alle poesie, perché l'hai fatto anche nel Caterina e lo Sancato, in cui ci sono appunto delle immagini. Sono le mie copertine, sì. Eh sì, perché tu dipingi anche. Sì, dipingo. Ecco, quindi sei un artista tutto tondo, oltre che un rappresentante di scarpe. Quello lo ero. Ecco, lo eri. Ma sulle scarpe hai mai scritto delle poesie alla fine? Assolutamente no. Non ti hanno mai ispirato niente? Le scarpe, i clienti, i negozi? Guarda, assolutamente no, assolutamente no, guarda. E né nel mondo della moda, ma hai scritto nulla. Ma come hai fatto a far convivere questo spirito rivoluzionario bolognese con quello di venditore di scarpe? No, me lo devi dire. Ma guarda, io ho avuto, nella figura di mio padre, io ho sempre visto il nemico, no? Eh. Quindi tutto quello che contrastava quella logica, sai, che c'era ovviamente nella generazione di mio papà, che era dei trenta, no? Che sai benissimo. Eh, lo so. La tua ribellione contro la sua fermezza. Certo, certo. Il mio stare dall'altra parte per contrastare una cultura borghese che non mi piaceva. Ma fondamentalmente il nemico era lui. Quando è mancato mio padre, a me è mancato il nemico, a me è mancato l'antagonista. E io ho sofferto moltissimo di questo. Perché quando ti manca l'antagonista è veramente brutto, è un bruttissimo lamento. È vero, è vero. Ti rendi conto di tante cose. Ti rendi conto di tante cose. Immagine, immagine. Ascolta, Alessandro, hai mai pensato di scrivere un romanzo? Non sono capace. Ah, proprio a priori lo escludi? Lo escludo. Racconti brevi, probabile. Il mio modo di scrivere in prosa poetica posso arrivare a, non so, a raccontare cose in venti righe, quello sì, ma un romanzo non sono capace. Non sei capace. Evviva la faccia, finalmente una persona che risponde, non sono capace. No, perché dovrei dirti che sono... No, non mi ci rendi conto di una cosa che non sono capace. A parte che c'è un sacco di cose che io non sono capace di fare. ma ci manca il teatro. Non sono capace di cambiare neanche la lampadina io, non è che... Sei molto naiffa, Alessandro. Io avrei voluto venderti vendere le scarpe, guarda, avrei voluto essere... La nostra fortuna è che non esistevano ancora le documentazioni di Dio. Veramente, guarda. Ascolta, Alessandro, allora io veramente ti ringrazio davvero tanto per aver partecipato a questo episodio di Vite Parallele. Ricordo ancora come, edito da Lieto Colle. Ringrazio Marco Lodi alla regia, sempre presente, vigile, attento, con i suoi stacchi e attendo i miei amici ascoltatori per la prossima puntata di Vite Parallele, sempre dedicata alla poesia, in questo luglio caldissimo. Ci inoltreremo nella letteratura russa con Anna Akhmatova, con due super ospiti. A presto, dalla vostra Katia Simone, baci e abbracci, vamos Marco con la sigla. Ciao Alessandro, a Siri e grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.